Mentre nelle zone alluvionate si continua a spalare fango, grazie anche alle tante associazioni in campo e ai tanti cittadini volontari che sono corsi a dare una mano, nell'Arettino, nelle ultime 24 ore, si è dovuto fare i conti invece con i danni provocati dal vento, che anche nella notte tra il 4 e il 5 novembre ha sferzato il territorio provinciale. I vigili del fuoco di Arezzo hanno effettuato, solo nelle ultime 24 ore, 110 interventi che si sommano ai 130 effettuati per i danni dei giorni precedenti. Per la maggior parte alberi abbattuti dal vento, come nel caso di Civitella in Valdichiana e Monte San Zavino, qui invece siamo ad Arezzo, al Parco Giotto, e ancora un intervento nella zona del mercato ortofrutticolo, qui invece siamo a quota nel comune di Poppi. L'intervento più importante è stato in Casentino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Bibbiena e con gli operatori fluviali che si sono calati dal ponte per liberare il letto dai tronchi che ostruivano il passaggio dell'acqua. Un intervento che è stato possibile con l'ausilio dell'autogru che ha spostato gli alberi più grandi e del personale del Consorzio Bonifica.